Quando Cesare l'imperatore chiama i nonni scappano scrive la conduttrice a corredo di una foto su Instagram con l'ex marito e nipote. Uno scatto dolcissimo con la Unziker che bacia il neonato uno scatto pieno d'amore nella foto pubblicata da Michelle Unziker sui suoi social, si vede la conduttrice svizzera baciare sulla testa il nipote appena nato Cesare tenuto in braccio dall'ex marito Eros Ramazzotti. I due sembrano aver trovato il loro equilibrio per il bene della figlia Aurora quando Cesare l'imperatore chiama i nonni scappano è la simpatica didascalia della foto che in poco tempo è diventata virale e ha attirato migliaia di like tra pochi minuti.